cari amici cari bambocci ma soprattutto care sorelline in calore voi avete un problema vi chiederete ma quale problema cappio bastone voi avete un serio problema e adesso lo andremo ad analizzare il vostro problema è che seguite ogni sera da lunedì alla domenica i vari coglioni della community italiana e non anche quella straniera che giocano a fortnite contro altri coglioni che combattono contro altri coglioni per fare i coglioni a loro volta quindi guardate che giro di coglioni che c'è questo è il vostro problema ma per fortuna esisto io ci sono io non vi preoccupate bambocci bambocci ci sono io bambocci e proprio per questo perché voi avete un culo immenso ad avermi voglio rendere le vostre giornate migliori siccome voi appunto siete dei coglioni perché guardate la merda io vi vengo incontro io vi aiuto vi aiuto a spremere le meningi perché voi guardando fortnite il vostro cervellino prima era leggermente normale adesso è diventato come una nocciolina marcia putrida che neanche il verme ve lo mangia più e quindi vi voglio ampliare la mente voglio farvi diventare delle persone che ragionano voglio farvi diventare della gente pensante dei ragazzini intelligenti come come sfruttando questo grandissimo gioco che si chiama doom che ha nelle sue features una funzionalità integerrima e allucinante che si chiama snap map la snap map ti permette un editor di mappe che ti permette di creare le tue mappe ma non semplicemente mettendo il mostriciattolo e il punto di respawn e combattendo pam 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 ma ti permette anche di avere degli obiettivi di fare degli obiettivi eccoci qua vedete questo è il mio personaggio è l'inizio del giocatore sarebbe il punto di spawn e nel tutorial di oggi vi andrò a spiegare come si aprono le porte voi direte ma che cazzo ci vuole anche mia nonna senza le gambe ci riesce no no perché perché noi non le apriremo come i coglioni no che le lasciano aperte che quando il giocatore si avvicina si apre no noi useremo il cervello useremo un metodo praticamente useremo l'apertura tramite comando tramite un pannello di controllo quindi faremo le cose fatte bene ci metteremo tante belle cose che renderanno questo livello bellissimo e io voglio che voi impariate a fare questo in modo tale da evitare che buttiate via le serate a guardare le live dei coglioni su fortnite prima di iniziare vedete che c'è scritto nessuna porta andiamo nel menu quello della gestione della mappa eccoci qua vedete questa è praticamente il tavolo da lavoro dove si piazzano i vari settori della mappa adesso vedete che questo è un settore che si chiama bunker e poi abbiamo un piccolo settore dove c'è lo spawn del giocatore dove il giocatore inizia la partita adesso non andremo a vedere nel dettaglio questa parte perché poi ve la farò vedere in un altro tutorial ma bensì bensì torniamo nella nostra mappa comodissima per andare a vedere come si gestisce l'apertura e la chiusura di una porta perché bisogna partire dalle basi allora voi voi non è che siete molto intelligenti alcuni di voi diciamocelo alcuni di voi seguendo fortnite non è che abbiano questa intelligenza cliccate con y su nessuna porta sul simbolino e da qui possiamo decidere quale porta scegliere perché ci sono tipologie varie di porte con proprie aperture e chiusure vedete c'è quattro battenti c'è questa segreta che è una porta che si mette vicino a un muro ed è apribile solamente con il comando manuale c'è quella verticale c'è quella laterale insomma ce ne sono tante per adesso noi sceglieremo l'apertura verticale che è molto figa ok la seconda opzione che abbiamo è la chiave magnetica richiesta se noi selezioneremo una chiave questa porta si aprirà solamente con quella chiave tipo c'è la magnetica rossa poi c'è quella blu c'è quella gialla c'è quella verde oppure ci sono i teschi anche a posto delle chiavi ci sono i teschi colorati che fungono da chiavi anche loro per adesso la teniamo su nessuna perché non ci serve poi lo stato della porta può essere in tre modi bloccata sbloccata e aperta la bloccata è ovviamente bloccata come ci serve a noi l'aperta è sempre aperta mentre la sbloccata significa che quando il giocatore si avvicina si apre automaticamente però noi vogliamo fare qualcosa di molto più figo no non vogliamo fare sta cagata qua vogliamo fare qualcosa di molto più figo questo invece il messaggio di chiusura accesso negato noi lo possiamo anche cambiare quindi noi adesso mettiamo accesso negato coglione virgola coglione coglione in modo tale che quando il giocatore si avvicina alla porta che sarà chiusa verrà fuori questo messaggio quindi accesso negato coglione ok vedete perfetto l'abbiamo messo poi lo testeremo se funziona e quindi la porta attualmente è chiusa di qui non può passare nessuno perché la porta è chiusa in nessun modo questa porta si potrà aprire senza un comando come facciamo adesso da ad avere un comando a dargli un comando semplicemente il giocatore quando si avvicinerà qua la troverà chiusa però siccome noi vogliamo fare un livello dobbiamo dargli modo anche di aprirla come si fa beh selezioniamo nel menu degli oggetti una categoria che si chiama interattivi che questa qua vedete c'è l'altare infernale c'è il commutatore ci sono tutte le cose tra cui anche i cadavri i droni con cui il giocatore può interagire vedete ci sono addirittura guardate anche gli interruttori classici l'occhio la leva il demone il teschio c'è un sacco di cose no con cui si può interagire in questo caso ovviamente è un semplice una semplice porta di un di una qualsiasi base useremo un pannello di controllo semplicissimo praticamente se scegliamo questo il controllo con un con un pulsante proprio da da bingo bongo mettiamolo qui e lo posizioniamo dove vogliamo lo possiamo mettere qui di fronte davanti anche dietro la porta anche se non è molto intelligente mettere il pannello di apertura dietro la porta proprio da coglioni lo mettiamo qua ok vedete lo allineiamo con il con il pavimento perché con l'apposito tasto direzionale giù eccolo qua l'abbiamo posizionato ora abbiamo il pannello e abbiamo anche la porta solo che questi due non comunicano perché nessun nessuno dei due ha un codice che li fa comunicare quindi sono due entità separate questa rimarrà bloccata e il pannello anche se schiacciato non produrrà nulla come si fa ad avviare un collegamento tra di loro bene clicchiamo con questo facciamo all'utilizzo quindi all'utilizzo il pannello cosa andrà a fare trasciniamo qui il puntino e lo mettiamo sulla porta quindi al pannello quindi quando il pannello verrà cliccato dovrà far aprire la porta quindi selezioniamo sblocca la porta ok perfetto avete visto che c'è un codice una linea blu con i pallini che dice guardate quando il pannello viene utilizzato quindi il pannello all'utilizzo cosa fa all'utilizzo vedete che le frecce vanno in direzione del della conseguenza sblocca l'apertura verticale vedete come si leggono i trigger quindi pannello all'utilizzo sblocca la porta verticale funziona così il comando vedete come come con i comandi prossimi che vi farò vedere funziona così ma noi vogliamo mettere altro ok non basta solo l'apertura vogliamo mettere che ne so un suono ok una voce un qualcosa un rumore quindi noi selezioniamo un audio tra questi tipo voce del complesso che la voce femminile la mettiamo qui che si sente bene e facciamo riproduci ok in modo tale che adesso andiamo a selezionare quale voce scegliere che c'è una serie di voce tantissime bellissime di ogni genere ok selezioniamo accesso confermato con la voce femminile quindi cosa significa che quando il pannello viene attivato oltre che aprire la porta all'utilizzo avvia anche l'audio riproduci l'audio ok quindi oltre che ad aprire la porta ti riproduce anche l'audio vedete come funzionano sono semplici codici cioè anche un coglione li capirebbe questo è un comando semplicissimo per fare una bellissima apertura della porta però siccome noi siamo anche fighi oltre che belli e masselli vogliamo produrre qualcosa di più un'altra cosa cosa ci possiamo mettere ad esempio ci possiamo mettere qualsiasi cosa tra cui anche che ne so degli effetti grafici una luce delle scintille piccole grandi esplosioni quindi mettiamo ad esempio le scintille facciamo finta che quando il pannello viene attivato si rompe quindi produce delle scintille in modo tale da rendere l'idea che non sarà più utilizzabile ok quindi selezioniamo le scintille mettiamo attiva pericolo e oppure imposta da anni possiamo fare tante cose mettiamo scintille piccole le posizioniamo vicino al pannello in modo tale che sembra che escano proprio dal pannello vedete in questo modo ma non so neanche se è giusto aspetta fatemelo controllare bene lo possiamo mettere dove vogliamo ma non solo nel pannello possiamo metterlo vicino alle porte da una determinata area insomma possiamo fare quello che vogliamo vedete lo mettiamo proprio qui sul pannello quasi sembra buono lo lasciamo qua tac ok quindi all'utilizzo il pannello oltre che aprire la porta avviare l'audio produrrà anche le scintille ma le scintille a questo punto sono visibili ora cosa dobbiamo fare andiamo nelle impostazioni delle scintille e inizia abilitato mettiamo falso perché l'inizio abilitato è falso questo si deve attivare dopo l'apertura della porta e il bottone schiacciato danni mettiamo zero perché le scintille non producono danni possiamo selezionare l'intervallo dei danni tutto ci sono tante opzioni e voilà questa è una semplice apertura molto molto figa con il suo perché vedete all'apertura quindi quando andiamo a schiacciare avverranno tutti questi fattori vedete ok perfetto adesso non ci resta altro che provare la nostra bellissima creazione allucinante così andiamo a vedere se funziona veramente e se tutto a posto allora eccoci qua ha caricato subito vediamo come funziona guardate facciamo un esperimento eccoci qua nel gioco allora prima di tutto andiamo a vedere la porta vedete accesso negato coglione quindi quando il giocatore viene qua viene visualizzato il messaggio accesso negato coglione la porta non si apre in nessuna maniera né sparandoci né interagendo andiamo quindi al pannello interagiamo col pannello tac sentite accesso confermato quindi l'audio ha funzionato le scintille ci sono e la porta è aperta guardate che roba mamma mia quante cose che vi insegna bastone j quante cose che vi insegna bastone j e questo è solo il primo episodio di una lunga serie di tutorial che ho in mente di farvi per mostrarvi quante cose si possono fare con questo editor quindi mi raccomando basta fortnite e dedicatevi al vostro cervello grazie a tutti